A Pescara no l'abbattimento dei 58 alberi trapini e querce oggi esistenti sulla strada che collega via della Bonifica via Antonelli sia l'individuazione di un tracciato alternativo per la realizzazione del nuovo asse stradale necessario per l'accorpamento della riserva d'Annunziana e la linea dettata dall'Associazione Conalpa che ha di fatto inaugurato la maratona di audizioni delle associazioni ambientaliste le quali hanno chiesto di essere ascoltate dalla Commissione Mobilità sul discusso progetto e giungere a una soluzione condivisa dalla città ribadendo che tutta la Commissione ha unanimamente espresso perplessità per il taglio di questi 58 alberi. Il Presidente della Commissione Armando Foschi Siamo lungo via Pantini, attualmente è una strada quasi interpoderale, diventerà una strada a due corsie di marcia con marciapiedi, illuminazione, pubblici servizi e in più sotto la strada ci saranno dei sottoservizi per permettere l'attraversamento dalle microfauna dalla pineta del comparto 5 verso l'area verde della collina. Inoltre l'accorpamento della riserva comparto 5 permetterà il ricongiungimento della riserva danunziana al Valle Lunga, l'area umida del Valle Lunga che porterà ad affacciare la riserva danunziana sul mare con la pinetina di Viale Primoveri. Si potrà giungere a una soluzione, a un compromesso? Guardi, diciamo che la Commissione è al 100% in un momento di riflessione, io ho informato la Giunta, la Giunta sta verificando che cosa si può fare, è vero che l'agronomo ci ha detto che c'è nulla osta della sovrintendenza, è vero che l'agronomo ci ha detto che verrà applicata la compensazione ecologica, per ogni albero abbattuto ne verranno ripiantumati tre, con un'altezza non inferiore a 2,50 metri, quindi da un lato c'è una più verde, però da un altro lato in Commissione abbiamo avviato un momento di riflessione. Tra l'altro c'è questo bellissimo pino che poi è intoccabile, perché? Questo è un pino monumentale che ha circa 100 anni, infatti la strada si discosta da questo pino, non dal troggo ma dalla chioma di 20 metri, proprio per tutelare questo albero che ci ha detto Giovanni Damiani, è un albero autoctono, quindi è nato qui, ha visto la storia di Pescara con i suoi 100 anni ed è stato protetto, a differenza degli altri alberi che sono stati autorizzati, lo ripeto, sia dagli agronomi, il taglio autorizzato sia dagli agronomi che dalla sovrintendenza. Grazie.